Nella giornata odierna i carabinieri della Compagnia di Battipaia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Montefusco Ernesto, Argenziano Ilpidio, Calamai, Luana, Torre Francesco, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura per il reato di furto tentato, consumato e aggravato in concorso. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati tra il settembre 2022 e il marzo 2023 hanno commesso complessivamente 13 furti ai danni di negozi di abbigliamento, edicole, bar, centri scommesse ubicati a Battipaia, Giffone e Vallepiana, Eboli, Castellamare di Stabia, Salerno, Pagani, Cava dei Tirreni, Avellino, Mercato San Severino e Napoli. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.